14 maggio 2014 è la data nella quale appunto è iniziato tutto questo ragazzi nella quale appunto abbiamo aperto il canale youtube oggi è il 15 di aprile del 2020 quindi sono passati quasi 6 anni, 6 anni nei quali appunto ne abbiamo passate veramente di tutti i colori ne sono successe veramente di cotte e di crude ed oggi mi ritrovo nel dovervi dire appunto questa cosa molto importante sono due settimane che vi sto facendo aspettare appunto per pubblicare questo video, il video che ritengo il più importante del canale perché segna un grandissimo cambiamento netto molto probabilmente ma vi chiedo un ultimo sforzo perché vi ho fatto aspettare sì due settimane ma vi chiedo appunto quest'ultima gentilezza ragazzi nel primo link nella descrizione ho fatto un video nel quale appunto vi dico tutto quanto veramente è stra importante fidatevi andatevelo a vedere basta che andate in descrizione nel primo link insomma ragazzi per chi è arrivato fino a qui, per chi è atteso questo giorno, per chi mi ha seguito in realtà per questi 6 anni soprattutto dall'inizio fidatevi che ne varrà la pena insomma quindi mi raccomando raga lo trovate in descrizione